L'astrologia karmica, quindi parliamo di astrologia karmica, ovviamente tutto quello che accade nella nostra vita ha un karma, cioè il karma è la leva che è la forza motrice, diciamo così, che fa cadere gli eventi, che spinge gli eventi. Quindi perché tu sei nato o sei nata in una certa famiglia con certe caratteristiche e sei nata anche in un certo mese, in un certo istante, in un certo punto dello spazio-tempo, quindi sei nata con un seno zodiacale. Anche il seno zodiacale che porta tutto un corredo di situazioni astrologiche, se vogliamo, ma quindi energetiche, perché ricordiamoci che l'astrologia karmica è fondamentalmente, poi si basa sull'energia, l'energia che in qualche modo ci governa e governa la nostra vita, Noi dobbiamo tenere presente che, appunto, l'astrologia, l'astrologia karmica riguarda proprio queste caratteristiche, come, diciamo, l'influsso energetico, quantistico, oserei dire, dei vari pianeti è dovuto al karma. Quindi sei nato sotto un segno piuttosto che un altro, teni presente che qualunque cosa che accade nella tua vita è di fatto un evento karmico. Noi non possiamo sfuggire a questa legge, che è una legge universale. Quando ci capitano delle cose, capitano perché si sono create cause e condizioni che hanno fatto in modo che queste cose accadessero. E quindi l'astrologia karmica ha questa valenza, questa situazione, proprio in questi momenti. Noi possiamo, diciamo così, utilizzare, se vogliamo, il karma, il karma di popolo, anche se vogliamo, il karma legato... Un saluto a Stefano Gatto. Ah, adesso che vedo Stefano Gatto, però, devo andare a prendere la campana tibetana, perché qua ci vuole, visto che il nostro Stefano Gatto è un giro di campana per la gattina di Stefano Gatto, o Pechigna, credo che si chiama in Pechigna, un giro di campana al nostro Stefano Gatto, per la sua gattina, diciamo. La sua gattina che, appunto, parlando di karma, avrà sicuramente un karma buonissimo e ha lasciato il suo corpo oggi, credo. E quindi facciamo un giro di campana per un bombardo al gattino Pechegno. Il gattino Pechegno, il gattino Pechegno, in modo tale che possa avere un bombardo, una buona rinascita, magari chissà, una rinascita nel mondo umano. Perché gli animali, quando entrano in contatto con gli umani, che hanno un rapporto, diciamo, proprio oggi, appunto, e hanno un rapporto... Ah, poco fa. Bene, quindi mandiamo tutti un po' di energia a un pensiero, al gattino Pechegno, in modo tale che possa affrontare questo suo viaggio, questo suo bardo, e possa andare avanti. Quindi, diciamo, gli animali, quando hanno sviluppato un contatto forte con gli umani, acquisiscono anche tratti umani. Perché ricordiamoci che la dimensione umana è quella che consente, poi, un ulteriore passaggio all'illuminazione. Diciamo che la condizione umana, secondo le tradizioni esoteriche, è quella, da un lato, che permette il massimo sviluppo della spiritualità. Dall'altro, prevede anche la possibilità del massimo degrado. Quindi noi abbiamo un grande potere. È come dire, viaggiare in elicottero ti permette di muoverti più forte, più velocemente, però, nello stesso modo, viaggiare in elicottero è molto più pericoloso. Quindi un saluto e un arrivederci al nostro gattino Pechegno, che condivideva il suo tempo con il nostro Stefano Gatto. Bene, e allora torniamo all'astrologia karmica. Quindi, come dicevo, tutto è karma, ogni azione che ci accade è karma. Anche gli animali hanno un karma. Sicuramente il gattino Pechegno, nell'incontrare Stefano Gatto, l'incontro tra Stefano Gatto e il gattino Pechegno non è avvenuto a caso. Ci sarà stato sicuramente un flusso karmico, quindi cause e condizioni da parte di Stefano Gatto, ma anche cause e condizioni da parte di Pechegno. E quindi si sono, o Pechegno adesso non so la pronuncia, si sono comunque incontrati. E quando due persone si incontrano, due esseri senzienti, due esseri viventi si incontrano, si crea spesso un entanglement, si crea spesso una condizione. E un saluto anche Isalora. E quindi procediamo con l'astrologia karmica. Dicevo, il karma, Pechegno, pronuncia perfetta, benissimo. Il karma, che cos'è quindi? Sono le azioni che noi facciamo e le azioni che andiamo a vivere fondamentalmente. Quindi anche, per così dire, l'astrologia, il senso di alcare in cui noi nasciamo, rappresenta un evento karmico. Perché nulla fuoriesce dal karma. Dobbiamo tenere presente questo. E quindi quali sono, in questo periodo, il karma di popolo? Il karma di popolo ovviamente non è un karma individuale, ma si basa proprio su correnti karmiche che caratterizzano un popolo. Esiste il karma di popolo, non è un karma individuale, ma nasce proprio in quel particolare popolo. Pensa ad esempio, pensate ad esempio, non so, al popolo ebraico, ad esempio, che ha vissuto, ormai sono parecchi anni fa, parliamo di quasi cento anni fa, magari un po' di meno, tanti anni fa, un, diciamo, un forte estate di sofferenza. Quindi il karma di popolo esiste, nel senso che sono tanti karma individuali simili che si uniscono per poter creare un'esperienza comune. Quindi il karma, tra virgolette, di popolo può essere riferito a una popolazione, a un popolo vero e proprio. Ah, si è palesato dopo la scomparsa di Milù, esatto, vedi, si è palesato. Adesso magari si paleserà un altro gattino, Stefano Gatto, quindi tutto questo è possibile. Eh, sì, esatto, esatto, bravi Sara, il vuoto ce l'abbiamo tutti, quindi il nostro gattino Pecchigno, Pecchegno. Facciamo ancora un giro di campana per un buon bardo per il gattino Pecchegno. Allora, e partiamo quindi dal seno dell'ariete. Allora, il seno dell'ariete, da un punto di vista karmico, in questo periodo, eh, ricordi, in questo periodo non è fortunatissimo, perché sembrerebbe che ci sono dei pianeti, e quindi dei flussi energetici un po' contrari, che tenderanno a fare d'antagonista, a mettere un po' di basso in tra le ruote. No, la morte non esiste, è una trasformazione, come diceva giustamente Vin Dreams, la morte è una trasformazione, un cambiamento, è una dimensione quella della morte, dove, come dire, il nostro corpo fisico perde le sue condizioni, i nostri atomi legati al corpo fisico si dissociano, e in continue perenne trasformazioni i nostri corpi più sottili prendono altre strade, reacquisiscono altri corpi fisici. È un po' come dire, quando uno finisce un vestito, cambia vestito e riprende con un altro vestito. La vita è sempre aciclica, è sempre ciclica, sia, diciamo, anche nella nostra vita quotidiana, noi attraversiamo dei cicli, dei cicli giornalieri, e tutto il nostro mondo si basa su cicli, il ciclo delle stagioni, il ciclo vitale, i cicli positivi e i cicli negativi, tutto è ciclico, e quindi anche la nostra vita è ciclica, anche la morte è ciclica. Vita, morte e rinascita fanno parte di una stessa situazione. Comunque, tornando al discorso della riete, la riete ha come energie, l'energia di Plutone e l'energia di Marte, un po' contraria, quindi i pianeti sono in antagonismo, per cui si vedranno vanificare, ad esempio, molti progetti potranno saltare all'aria, sia personali, quindi legati, ad esempio, all'affettività, legati alla vitalità, legati anche alle relazioni sentimentali, sia anche, diciamo, dei progetti legati al lavoro. Quindi, gli amici della riete dovranno imparare in questo periodo a mettere più energie se vorranno ottenere qualche risultato importante, perché si stanno raccogliendo, diciamo che a livello carmico, stanno emergendo dei semi carmici non propriamente negativi, non propriamente positivi. Ma questo non vuol dire che i semi, se non sono propriamente positivi, non possono, non possiamo trasformarli, non possiamo migliorarli. E poi abbiamo, diciamo, il segno del toro. Il segno del toro, da un punto di vista carmico, invece, ha dei vantaggi. Ha dei vantaggi perché Urano è congiunto a Plutone, in questo periodo congiunto a Plutone in Trigono e questo apre la porta alla realizzazione di obiettivi. E ci può anche essere, per i nostri amici del toro, un saluto a Stella Marina, per i nostri amici del toro ci può anche essere una giusta atmosfera per incontrare veramente la persona che interessa. Quindi ci possono essere degli incontri anche qua carmici. Ogni volta che noi abbiamo un incontro, ovviamente un incontro è sempre carmico, non ci sono mai eventi che non sono collegati al karma, perché come dicevo prima, karma significa azione, quindi ogni azione, ogni qualcosa che noi facciamo, anche il giorno in cui siamo nati, il momento in cui siamo nati, le esperienze che andiamo a fare, sono sempre legate, sempre e costantemente legate a delle possibilità che noi abbiamo proprio a livello a livello carmico. e poi abbiamo diciamo i gemelli. I gemelli hanno la luna che intrigono a Saturno e Mercurio, però diciamo all'opposizione di Venere. Venere è un po' il pianeta dell'amore, il pianeta che governa i sentimenti, il pianeta che spesso è collegato al chakra del cuore. D'altra parte i pianeti del sistema solare sono molto connessi ai chakra e quindi gli amici della Vergine, gli amici della Vergine hanno la possibilità diciamo di scegliere o cogliere le esigenze ma devono imparare a controllare un po' il nervosismo, devono imparare a controllare un po' le proprie emozioni. Questo è quello che devono fare gli amici dei gemelli. essere bravi a cogliere diciamo le esigenze soprattutto da un punto di vista lavorativo. Quindi il karma dei gemelli in questo momento è un karma altalenante ma d'altra parte i gemelli hanno sempre caratteristiche altalenanti e credo che proprio il livello karmico come segno sia uno di quei segni che non è mai soddisfatto e spesso per i gemelli quello che rappresenta la soluzione rappresenta anche il problema stesso quindi se soluzione e problema coesistono meglio non presentarli troppe soluzioni perché le vedrebbe come problemi. E poi abbiamo il cancro il cancro diciamo che si trova attualmente nel seno della bilancia è promotore diciamo di fastidi magari fastidi stagionali e quindi perché anche Marte e Venere diciamo Marte e si trovi in avversione quindi è un segno che in questo momento sta contrastando proprio energeticamente il il cancro che dovrebbe proprio per crescere aumentare quello che è il suo potenziale per aumentare quello che è il suo campo di meriti dovrebbe diciamo occuparsi come d'altra parte fa sempre il cancro ma in questo periodo ci ha mollato un po' di più per tensioni dovrebbe tornare a occuparsi un po' della famiglia e sviluppare le capacità di accudimento e poi e poi abbiamo diciamo e poi abbiamo il leone il leone in questo caso la luna in gemelli sorride però Giove e Saturno sono nemici acerrimi del leone in questo periodo quindi è meglio prendere un po' le distanze da questo segno ed è meglio che questo segno prenda le distanze perché con due pianeti importanti come Giove e Saturno stili bisogna essere prudenti questo parlo per amici del leone e imparare a sviluppare la giusta strategia perché ci potrebbero essere dei seri problemi lavorativi quindi per il leone potrebbe appreste una stagione lavorativa non proprio buona e quindi trovarsi anche poi scoperta o scoperto poi abbiamo la vergine la vergine che la vergine che è un altro segno interessante sì volevo metterla anch'io Stella poi mi è spassato in mente la vergine è un altro segno interessante in questo periodo gode di un buon karma ma rischia diciamo di prendere degli abbagli però quindi perché Nettuno è abbastanza salvarevole sia in amore che nelle finanze quindi la vergine potrà andare bene ma deve cercare di volare in basso perché altrimenti il rischio di prendere delle luci per lanterne molto alte quindi di soffrirne proprio anche a livello familiare quindi per la vergine è importante mantenere un livello diciamo di come dire tensione bassa poi abbiamo la bilancia la bilancia alla luna in gemelli in trigono a mercurio e quindi è il momento per la bilancia di sbilanciarsi quindi la bilancia si dovrebbe imparare a sbilanciarsi dovrebbe imparare a diciamo a sviluppare una maggiore chiarezza e imparare a diventare veramente una persona una persona libera una persona che non è dipendente da nessuno perché talvolta la bilancia viene governata un po' dalla dipendenza ma questo non è sicuramente un qualcosa di benevole di positivo per per la bilancia e poi abbiamo lo scorpione lo scorpione si trova da tempo io credo non so se c'è qualche amico dello scorpione un po' in un impasse lavorativo da un punto di vista carmico che però può essere superato diciamo anche abbastanza rapidamente utilizzando aiuti di una parte amica quindi questo è fondamentale abbiamo poi beh quindi lo scorpione è tutto di caratterebola per superare l'impasse lavorativo ma deve mantenere la calma e la sicurezza ci vorrà un po' di tempo e non deve impanicarsi e poi il sagittario il sagittario diciamo che a livello sentimentale affettivo sono in arrivi incomprensioni perché è coinvolto passionalmente dal partner però è diciamo tende a vivere la luna opposta a venere quindi qualche incomprensione è preferita quindi per il sagittario cercare anche per il sagittario di concentrarsi esclusivamente a fare focus esclusivamente su su se stesso poi abbiamo il capricorno il capricorno ha mercurio che è quadro alla bilancia quindi deve ragionare ma l'altra parte del capricorno ragiona non deve fare mosse impulsive perché le mosse impulsive possono creare l'occasione a chi è contrario a chi è ostile a creare delle difficoltà quindi fate una buona cernita sulle cose da fare sulle cose da non fare e quelle che non sono da fare non fatevi convincere non fatele mandate affanculo e poi abbiamo il segno dell'acquario che da un punto di vista carmico diciamo sono previste soddisfazioni positive anche belle rivincite quindi il segno dell'acquario finalmente potrà riscattarsi un attimino delle cose che gli sono capitate e potrà incrementare le sue entrate e dulcis in fundo abbiamo il segno dei pesci come diceva qualcuno non era di andrè ma era chi era che cantava nata sotto il segno dei pesci non era di andrè ma era non mi ricordo no battiato no chi è che cantava sotto il segno dei pesci famoso non era neanche venditti antonello venditti eccolo qua nata sotto il segno dei pesci antonello venditti no antonello venditti era venditti 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 venduto venditti venditti venduto allora i pesci hanno la luna in gemelli quindi è un periodo in cui sono poco lucidi e anche un po' suscettibili diciamo cercate per gli amici dei pesci di evitare di creare di verbi soprattutto a livello familiare perché il rischio dei pesci saluto a Marcella il rischio dei pesci in questo periodo è creare dei dissensi a livello familiare e quindi ci saranno nuovi impulsi che porteranno diciamo a nuove possibilità però i pesci devono darsi da fare non devono crogiolarsi sugli allori ma devono metterci energie devono mettere energie e questo è fondamentale ho saltato ho saltato l'acquario forse mi sembra che è stato l'acquario l'acquario che viene prima dei pesci ma l'ho saltato e adesso lo vediamo diciamo che ha la luna positiva per cui l'acquario è un segno che in questo periodo sta andando bene si possono prendere delle belle soddisfazioni i nemici dell'acquario e e possono ottenere diciamo anche da un punto di vista economico finanziario delle grandi soddisfazioni quindi per l'acquario è venuto il momento di cogliere di cogliere e quindi poi i pesci li abbiamo già visti e quindi direi che va bene così quindi ringrazio tutti per la partecipazione a questa live mando un saluto a tutti l'acquario è un periodo fortunato mando un saluto a tutti mi raccomando iscrivetevi a questo canale che è un bel canale non vi costa niente l'iscrizione a esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco ma poi iscrivetevi a tutti i miei canali Massimo Terramasco crescita personale felicità benessere amore autostima attivando la campanella così riceverete le notifiche di nuovi video e ti ricordo che su ogni canale ti puoi anche abbonare scegli l'abbonamento che preferisci e è un'escrivetevi a questo canale Grazie.